Salve a tutti, siamo qua con il capitano della SIS Roma, Francesca Giovannangeli, si è appena conclusa l'Unipol Cup con due partite e due vittorie. Lascio la parola a lei chiedendole le sue prime impressioni su questo inizio di campionato e come si è trovata con le compagnie e con il nuovo tecnico. Due partite e due vittorie sicuramente è un buon punto d'inizio, perché se questa Unipol Cup l'abbiamo usata come allenamento, visto che usciamo da un carico di lavoro molto pesante, ma si stiamo abituando al nuovo tecnico e siamo molto felici di questa scelta, perché più di così non potremmo chiedere. Comunque sia molto complesso il gioco, quindi diciamo che ci assembleremo meglio durante il campionato. Momentaneamente sono contentissima delle ragazze, è un ottimo gruppo e soprattutto c'è un'intesa tra tecnico e squadra che sicuramente ci porterà avanti, anche perché è cambiato molto. Un'altra parte della squadra è cambiata e quindi ci siamo uniformati con poco tempo, ma quello che conta sono i risultati e una buona partenza. Facciamo un'ultima domanda, come incida il capitano della SIS Roma la sua squadra prima di una partita? Diciamo che una macca sul culo è quello che di meglio possiamo fare, ma a parte questo non ci sono strane strategie. Quello che conta è l'allenamento quotidiano, è ascoltare il tecnico e quello che è nuotare a testa bassa, questo perché urli, strigli, non conta niente. Diciamo che ci alleniamo per l'unico obiettivo e per adesso siamo felicissimi così. Secondo me con il tempo faremo ancora meglio. Vi ringraziamo a tutti, ci vediamo alla prima partita di campionato contro il Milano sabato prossimo. Arrivederci.